La Mezzia, altro decesso per Covid, muore un anziano ricoverato al Policlinico di Catanzaro. Si aggrava il numero di vittime per Covid in Calabria e è deceduto al Policlinico di Catanzaro un paziente di 87 anni di La Mezzia. Le condizioni dell'uomo affetto da coronavirus si erano aggravate negli ultimi giorni e per lui era stato necessario il ricovero in terapia intensiva. L'anziano, secondo quanto si apprende, aveva anche altre patologie. Sale a 106 il numero di vittime in Calabria per coronavirus da inizio pandemia. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Coronavirus. È morta un'infermiera di 56 anni di Girifalco. Un'infermiera di 56 anni in servizio nell'unità Breast Unit dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro è morta dopo essere stata ricoverata nei giorni scorsi per coronavirus. Si tratta del primo caso di decesso di una dipendente del sistema sanitario calabrese. La donna, che soffriva di altre gravi patologie, era risultata positiva ed era stata ricoverata nel Policlinico Universitario di Catanzaro, ma è deceduta stamani per le complicanze della malattia. L'infermiera era residente a Girifalco e la sua morte è stata confermata anche dal sindaco della cittadina Pietrantonio Cristofaro. Un dolore immenso colpisce oggi la nostra comunità. Il Covid-19 ha portato via una nostra giovane concittadina. La donna, ricoverata nei giorni scorsi, affetta anche da altre patologie, ha spiegato il sindaco, è deceduta stamattina. Ai suoi cari va tutta la vicinanza della comunità di Girifalco in questo momento di profondo dolore ed immensa tristezza. È morta una donna, ospite della casa alloggio di Spezzano Piccolo. Nuovo decesso per Covid in Calabria. Una donna di 88 anni, ospite della casa alloggio L'Incontro di Spezzano Piccolo, frazione di Casali del Manco, comune nel quale qui vige la zona rossa dello scorso 18 ottobre, è morta nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Cosenza, dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto si è appreso, il quadro clinico della donna è peggiorato nella notte, tanto da richiedere il suo trasferimento in ospedale a Cosenza, dove è deceduta in mattinata. Si tratta della seconda vittima in pochi giorni, residente nel comune della Presila Cosentina, che porta a 39 il numero di decessi di persone con coronavirus in provincia di Cosenza. Incidente nel Cosentino, morto uno studente universitario, due i feriti. Un morto e due i feriti è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di domenica sulla strada provinciale 241, nei pressi di Mongrassano Scalo. La vittima è Emanuele Molinaro, studente universitario di 22 anni, residente a Torano. I tre giovani erano a bordo di una panda che per cause ancora da accertare è uscita di strada. Molinaro è stato sbalzato fuori dall'auto ed è morto sul colpo. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Cosenza dal 118. Carabinieri e vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell'incidente per ricostruirne le cause. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Operazione Oroverde. A Sellia Marina, otto arresti. Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catanzaro, unitamente a quelli dei comandi provinciali di Crotone e Reggio Calabria, coadiuvati dai carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori di Vivo Valencia, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di otto soggetti, sia di nazionalità italiana che straniera, fra cui anche un soggetto richiedente asilo politico indagati per coltivazione e commercio di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro con il sostituto procuratore Veronica Calcagno ed il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e del procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. L'attività investigativa convenzionalmente denominata Oro Verde, delegata appunto al nucleo investigativo del comando provinciale di Catanzaro, è sviluppata attraverso attività tecniche di intercettazione e riprese video, ha consentito di documentare il coinvolgimento degli indagati nella messa a dimora di due floride piantagioni di canapa indiana per complessive 9.000 piante all'interno di un'azienda orto-florovivaistica di Sellia Marina del valore di oltre 9 milioni di euro con impianto di irrigazione, sistema di ventilazione ad aria calda e un ambiente destinato all'essiccazione anche delle infiorescenze. Si tratta di una piantagione di marijuana realizzata nell'azienda orto-florovivaistica di Sellia Marina su commissione di soggetti provenienti dall'area della piana di Gioia Tauro con una parte della sostanza commercializzata anche nel territorio del comune di Cutro. Le investigazioni in particolare avevano una prima scansione già in data 29 maggio con l'arresto in flagranza di reato del corriere incaricato del trasporto della sostanza stupefacente destinata appunto al territorio Cutrese e poi in data 30 maggio con l'arresto in flagranza di reato del titolare dell'azienda orto-florovivaistica che sovrintendeva e curava l'attività di coltivazione dello stupefacente. Gli esiti investigativi consentivano di individuare gli altri indagati che concorrevano rispettivamente alla coltivazione della marijuana e all'acquisto dello stupefacente e portavano alla emissione dell'ordinanza cautelare eseguita in data odierna. Per Teleionio, Bruno Cirillo Droga e armi in un casolare, 28enne di Limbadi, condannato Cinque anni e quattro mesi di reclusione al termine di un processo celebrato con rito abbreviato che è valso per l'imputato uno sconto di pena pari ad un terzo Questa è la sentenza del GUP del Tribunale di Vibo Valencia nei confronti di Danilo Schimio, 28 anni di Mandaradoni, di Limbadi arrestato nell'ottobre dello scorso anno poiché sorpreso con 11 kg di marijuana 688 grammi di cocaina, una pistola con matricola brasa ed un rilevatore di microspie Erano stati carabinieri della stazione di Limbadi unitamente al nucleo cinofili di Vibo ad arrestare Danilo Schimio al termine di una perquisizione domiciliare estesa anche a un casolare rurale nella sua disponibilità Erano così spuntati fuori 11 kg di marijuana 688 grammi di cocaina, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, due caricatori, 29 cartucce oltre 23 mila euro in banconote di vario taglio una valigetta in plastica con all'interno un rilevatore di microspie, audio e video sette telefoni cellulari di provenienza furtiva un passamontagna, un binocolo con visore notturno a infrarosti e tre bilancini di precisione Tutto il materiale era stato sequestrato Schimio nel giugno scorso aveva lasciato gli arresti domiciliari Il GUP accogliendo la richiesta del difensore di fiducia Francesco Capria ha concesso all'imputato che ha ammesso sin da subito le proprie responsabilità le circostanze attenuanti generiche condannandola alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione San Giovanni in Fiore, tentativo di rapina a mano armata in gioielleria Nel centro di San Giovanni in Fiore si è consumato un tentativo di rapina a volto coperto e con armi in pugno, per fortuna non andato a segno Infatti i movimenti alla reazione dei titolari del negozio di gioielli sono scappati a bordo di uno scooter Prontamente intervenuti sul posto i carabinieri hanno recuperato le immagini del circuito di videosorveglianza del negozio e degli altri che sono nelle vicinanze ed hanno avviato le indagini per risalire ai rapinatori Il sindaco Rosario Succurro, avvertita dell'accaduto ha espresso solidarietà ai titolari dell'attività commerciale e un ringraziamento alle forze dell'ordine intervenute certa che gli autori del grave gesto saranno presto assicurati alla giustizia Non bisogna mai abbassare la guardia rispetto a fenomeni di piccola e grande criminalità che accadono in città, afferma il sindaco perché, oltre a turbare le vittime dei fenomeni criminosi destabilizzano la serenità di tutti i sangiovannesi Anche per questo ho voluto creare un apposito assessorato con delega alla sicurezza, legalità e alla trasparenza perché, per come ho declinato in campagna elettorale la mafia a San Giovanni non entra Incontrerò nei prossimi giorni il prefetto di Cosenza conclude la nota per chiedere il rafforzamento della tenenza dei carabinieri di San Giovanni in Fiore attualmente troppo sottodimensionata rispetto alla vastità del nostro territorio cittadino Per Teleionio, Maria Caterina Sanso Drangheta, processo Lex, 17 condanne e 12 assoluzioni Si è concluso con 17 condanne e 12 assoluzioni il processo Lex, celebrato davanti al giudice del Tribunale di Palmi nato in seguito a un'operazione dei carabinieri coordinata dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti della Cosca Ferrantino Chindamo e Lamari di Laureana di Borrello La pena più pesante è stata inflitta al boss Angelo Lamari e a suo figlio Mattia condannati rispettivamente a 18 anni e 13 anni di carcere Sempre a 13 anni di carcere sono stati condannati Fabio Mastroianni, Vincenzo Lamari e Iosè Signorello Il Tribunale inoltre ha inflitto 15 anni di reclusione a Giuseppe Pititto Per gli altri 11 imputati condannati i giudici hanno stabilito pena da 10 mesi a 5 anni di carcere Sono stati assolti da tutti i reati infine Francesco Barberio, Francesco Piro, Mario Bevilacqua, Alla Bielova, William Comi, Pasquale Di Masi Alessandro Ferrantino, Domenico Chindamo, Rocco Lamari, Claudio Napoli, Andrea Presso Mariti e Maurizio Pedisano L'inchiesta aveva portato nel novembre 2016 a 40 arresti Oltre all'associazione mafiosa tra le accuse contestate a vario titolo agli imputati c'era il traffico di droga e i rapporti con l'amministrazione comunale di Laureana di Borrello dove la Cosca riusciva ad accaparrarsi appalti e lavori che poi venivano assegnati alle imprese e società riconducibili ai boss Per concorso esterno era stato arrestato anche l'assessore comunale Vincenzo Lainà ritenuto il referente politico del clan Ferrantino Chindamo che è stato condannato a 5 anni di reclusione Prescriveva narcotici illecitamente rintracciato a Gerace un medico latitante ricercato negli Stati Uniti Era in auto a Gerace ed è stato fermato da un normale posto di blocco ma il medico romano Luigi Palma, detto Jimmy Palma, era latitante e i carabinieri della compagnia di Locri lo hanno arrestato in esecuzione di un mandato della Corte d'Appello di Roma del 20 maggio 2020 in riferimento al decreto di estradizione verso gli Stati Uniti emesso dal Ministro della Giustizia il 7 agosto 2019 Negli USA insieme ad un altro medico italiano gestiva due cliniche in Florida e nel Tennessee che hanno dispensato illecitamente antidolorifici ossicodone, ossimorfone e morfina che secondo l'indagine dell'FBI che ha portato alla sua condanna ha garantito a Jimmy Palma e ai suoi soci un giro d'affari di 21 milioni di dollari in nero Il medico oculista 54enne è accusato di Phil Mills che letteralmente può essere tradotto come un mulino per pillole e l'espressione che in USA da 20 anni descrive una struttura illegale che somiglia ad una normale clinica del dolore ma prescrive antidolorifici narcotici senza anamnesi, monitoraggio medico o documentazione L'inchiesta dell'FBI è del 2018 quando nel mirino sono finiti oltre 100 spacciatori collegati a gruppi di pazienti che si presentavano nelle cliniche gestite dalla Urgent Aid and Surgery Center Enterprise la società dei medici romani Luigi Palma e Luca Sartini Il sistema era semplice e prevedeva che i pazienti, il più delle volte tossicodipendenti tenessero una parte dei farmaci loro prescritti dando il resto agli spacciatori che avevano pagato le loro visite mediche Gli oppiacei finivano così nel mercato nero e circa 700 pazienti aziendali UCSC sono morti è scritto nell'atto d'accusa e una percentuale significativa di quei decessi direttamente o indirettamente sono stati il risultato di un sovradosaggio di stupefacenti prescritti nel 2017 Palma aveva lasciato la Florida ed era rientrato a Roma dove era stato arrestato nel 2018 scarcerato per decorrenze dei termini dal maggio scorso si era reso irreperibile quando era stato spiccato nei suoi confronti il nuovo ordine d'arresto della Corte d'Appello Capitolina irreperibilità finita con l'arresto dei carabinieri per Teleionio Anna Maria Colabrano Furto con spaccata in pieno centro a Vibbo indaga la polizia Furto con spaccata lungo Viale Matteotti a Vibbo Valencia a farne le spese nel pomeriggio di ieri tra le 14 e le 14.30 un negozio di frutta e verdura situato lungo la centralissima via nelle vicinanze dell'ospedale Iazzolino qui ignoti malviventi hanno infratto la vetrina prelevando la cassa dell'esercizio commerciale ancora da quantificare il provento del colpo sul posto si è portato personale della squadra volante della questura di Vibbo che ha avviato le indagini allo scopo di risalire agli autori del fattaccio in aiuto potrebbero arrivare le immagini registrate dalle tante telecamere di sorveglianza della zona in cui insistono diverse attività e banche sul posto anche la scientifica che ha repertato tracce di sangue presumibilmente appartenenti al ladro che si sarebbe ferito nell'atto di infrangere la vetrina per Teleionio Maria Caterina Sanzo Soriano si stringe alla famiglia Geravolo sono passati otto anni e la Calabria e soprattutto Soriano non ha dimenticato quel ragazzo innocente strappato alla vita troppo presto dalla ferocia dell'andrangheta era la sera del 25 ottobre 2012 quando Filippo Geravolo si è trovato al posto sbagliato chiedendo un passaggio ad un suo compaesano l'agguato ad una curva con la mano assassina invece di colpire il conducente colpisce la giovane vittima e ieri si è tenuta la celebrazione di una santa messa al ricordo di Filippo alla presenza di Papa Martino e della sua famiglia e nel suo intervento Papa Martino dice aspetto le sirene all'alba il procuratore Falvo mi ha detto che devo avere fiducia che su Filippo a Catanzaro non hanno mai mollato anche se a suo tempo hanno chiesto l'archiviazione delle indagini è meglio andare a processo prendendoli tutti e con prove solide anziché correre il rischio di arrestarli e poi vederli assolti aspetta Martino, aspetta un'alba prima o poi ci sarà, dice aspetto di essere svegliato dalle sirene di sapere che sono andati a prenderli tutti chi ha ordinato quell'agguato chi ha fatto i sopralluoghi chi ha fatto da palo e soprattutto chi ha sparato li voglio vedere mentre li portano in carcere voglio guardarli ogni volta che saranno al processo voglio vederli condannati all'ergastolo e il perdono si pentono di quello che hanno fatto si facciano tutti la galera poi magari ne riparliamo processo piazza pulita la Cassazione annulla con rinvio la sentenza per due imputati la Corte di Cassazione nei giorni scorsi nell'ambito del processo piazza pulita riguardante varie ipotesi di spaccio di sostanza stupefacente ha accolto i ricorsi annullando con rinvio la sentenza solo relativamente agli imputati Antonio Perri e Carlo Alberto Gigliotti la Corte di Appello dovrà ora tenersi al dictum della Corte di Cassazione che ha accolti i ricorsi sulla questione della punibilità dei due imputati in primo grado si ricorda Perri e Gigliotti erano stati condannati a due mesi di reclusione per Teleionio Maria Caterina Sanso Sub trova ordigno esplosivo artigianale a Strongoli rinvenuto un ordigno esplosivo artigianale a Strongoli nel pomeriggio di ieri i carabinieri sono intervenuti sulla spiaggia di località Tronca dove un cittadino aveva rinvenuto nel corso di un'immersione subacquea a circa 500 metri dalla cosca un ordigno esplosivo di fattura artigianale lungo circa 30 centimetri sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale carabinieri di Cosenza per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area Per Teleionio Maria Caterina Sanso Coronavirus, nuova ordinanza di Spirli regole precise per accesso a cimiteri e didattica a distanza Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 il Presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirli ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 ha disposto ieri una nuova ordinanza la numero 80 a modifica e sostituzione delle misure già fissate nella numero 79 emanate il 23 ottobre 2020 il DPCM di Conte prevede la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado al 75% l'ordinanza firmata dal Presidente facente funzioni Spirli riconferma la sospensione integrale delle elezioni in presenza fino al prossimo 13 novembre nei successivi 10 giorni ci si allinerà alla didattica a distanza al 75% successivamente dal 14 al 24 novembre 2020 a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività l'ordinanza inoltre dispone anche a seguito dell'avvenuta interlocuzione con il Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria di cui all'articolo 1,9 lettera U del DPCM 24 ottobre 2020 dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le università le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza restano ferme nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti le attuali modalità di erogazione mista o blended delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario delle prove d'esame nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio i dispositivi di protezione tra le altre misure contenute nel nuovo provvedimento l'obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie da indossare anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché dalle linee guida per il consumo di cibi e bevande sono esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva i bambini di età inferiore ai 6 anni i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto le regole nei cimiteri si stabilisce che i sindaci dei comuni dispongono dal 28 ottobre al 4 novembre 2020 misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri che tengono conto di quanto segue accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea utilizzo delle protezioni delle vie aeree rispetto di tutte le altre misure di prevenzione regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne apposizione di cartelli informativi per i visitatori si raccomanda a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative di studio e per motivi di salute la misura vale per l'intero territorio regionale l'ordinanza dunque conferma il disposto a carico delle aziende ospedaliere affinché provvedono ad incrementare la dotazione dei posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel decreto numero 91 sballa 2020 entro il 3 novembre 2020 gli accompagnatori dei pazienti si ribadisce che è fatto di vieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e lungo decenza residenze sanitarie assistite hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria e dalla struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione è confermato il divieto assoluto di assembramento il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi nuovo lockdown l'imprenditore Chirillo sarebbe devastante dovrete assumervi la responsabilità di una crisi gravissima drammatica dalle conseguenze sociali devastanti pesa ogni parola l'imprenditore catanzaresi Francesco Chirillo titolare di importanti attività commerciali che nelle città capoluogo assicurano il salario a decine di dipendenti lo fa in una lettera aperta indirizzata direttamente all'attenzione del premier Giuseppe Conte un testo che racchiude in sé i sentimenti comuni di preoccupazione ma anche di rabbia ed esasperazione che tanti gestori di esercizi pubblici stanno vivendo in queste ore mentre attendiamo l'ufficialità del suo nuovo DPCM la consueta mania di palazzo ha già fatto in modo di diffonderlo su tutti i media scrive Chirillo apprendiamo che colpirete ancora e colpirete duro sempre contro i soliti noti i commercianti, i ristoratori i titolari di palestre, bar, pizzerie lo farete, cosa ancora più grave nell'assoluta mancanza di consapevolezza degli effetti dei vostri atti gli esercenti su cui state calando la vostra ultima pietra tombale e dei quali dimostrate di non avere nessuna considerazione sono gli stessi, ricordate che avete costretto ad investire migliaia di euro in piena crisi per adeguarsi alle vostre norme di sicurezza sono gli stessi che indebitandosi e compiendo assurdi salti mortali con le banche hanno comunque deciso di non licenziare e di tenere in vita le loro attività sacrifici che a quanto pare non servivano a nulla sacrifici che non vediamo certamente fare a tutti voi parlamentari trincerati nel cerchio magico degli intoccabili privilegi della politica è quasi passato un anno dall'esplosione della pandemia continua Chirillo e l'immagine che ci state offrendo da mesi è quella di un continuo procedere alla cieca per tentativi senza una vera logica e soprattutto senza le necessarie competenze per capire cosa sta accadendo in questo nostro paese sappia Presidente che la morte del commercio che state formalmente decretando in queste ore segnerà l'inizio di una recessione inarrestabile che nessun mess sussidio europeo o di Stato riuscirà a frenare e di tutto questo della depressione economica e del conseguente disagio sociale dovrete assumervi tutti voi le vostre responsabilità probabilmente conclude Francesco Chirillo è arrivato il momento anche per noi di dire basta parlo da imprenditore lavoratore e padre di famiglia il prossimo lockdown è quello che decreteremo noi cittadini nei vostri confronti per Teleionio Anna Maria Colabraro ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco virus a squillaggio il coprifuoco colpisce anche Guglielmo Pepe anche la statua di Guglielmo Pepe uno dei simboli per eccellenza della città che fu di Cassiodoro finisce per essere invischiata nell'emergenza coronavirus succede anche questo a squillaccio centro storico nella villetta di piazza risorgimento a pochi metri dalla basilica sul busto marmorio di colui che Francesco De Sanctis definì il padre del risorgimento italiano qualcuno ha pensato di collocare una mascherina chirurgica Goliardì abbravata protesta contro il look down notturno difficile capire cosa ha spinto questa notte l'ignoto a mano come altrettanto difficile capire come l'abbia presa l'effigie del generale avrà sorriso o si sarà inalberato boh i dubbi rimangono resta il gesto che di sicuro verrà tramandato alle future generazioni in una città che ha fatto una parte di storia calabra anche questa è storia a proposito di cenni dal passato Guglielmo Pepe squillace 13 febbraio 1783 Torino 8 agosto 1855 è stato un patriota e generale italiano nell'esercito del regno delle due Sicilie sposato con Marianna Coventri e fratello di Florestano Pepe è entrato nell'esercito in giovane età nella scuola militare della Nunziatella dove venivano formati gli ufficiali dell'esercito del regno di Napoli nel 1799 a Napoli si schierò a difesa della Repubblica a parte enopea prese parte alla rivoluzione napoletana del 1820 e fu sconfitto nella battaglia di Antrodoco in quella che è ricordata come la prima battaglia del risorgimento 7 marzo 1821 poste italiane pensioni di novembre in pagamento dal 27 ottobre nelle province di Catanzaro e Vibo Valencia le pensioni del mese di novembre verranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un libretto di risparmio di un conto bancoposta o di una postpay evolution lo comunica a poste italiane i titolari di carta postamat carta libretto o di postpay evolution potranno prelevare i contanti dai 103 ATM postmat disponibili nelle due province senza bisogno di recarsi allo sportello gli ultra 75 anni possono delegare al ritiro i carabinieri e negli uffici abilitati è possibile prenotare il proprio turno tramite whatsapp in funzione di una nuova ed importante diffusione del virus covid-19 l'azienda ricorda l'esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità in tal senso la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro paese coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti impone l'adozione di provvedimenti rispondenti alle disposizioni normative attualmente in vigore pertanto coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell'ufficio postale di riferimento i cognomi dalla A alla B martedì 27 ottobre dalla C alla D mercoledì 28 ottobre dalla E alla K giovedì 29 ottobre dalla L alla O venerdì 30 ottobre dalla P alla R sabato mattina 31 ottobre dalla S alla Z lunedì 2 novembre per Treglionio Anna Maria Colabrano ed ora la nota dell'esponente del Partito Democratico Emanuela Neri Continua con tutte le difficoltà del momento il lavoro all'interno della segreteria provinciale obiettivo principale tracciare un percorso che possa rimettere in cammino il partito nella nostra provincia soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo il segretario provinciale Gianluca Cuda ha immaginato di assegnarmi una delega che ritengo molto importante aree interne e pari opportunità entrambi temi a cui tengo molto e sui quali tanto impegno ho messo negli anni di attività sia politica che sociale oggi diventa forse tutto un po' difficile da marzo è cambiato il mondo dunque non è stato e non sarà semplice credo però che se si metteranno in campo scelte giuste e audaci si potrà venire fuori da questo triste periodo per anni si è sentito parlare di aree interne da decenni si parla di strategie e investimenti purtroppo però i frutti ad oggi non sono tangibili e l'abbandono negli anni di questi territori diventa un macigno in questo momento le imprese che resistono ancora le nostre poche risorse le intelligenze rimaste stanno subendo un ulteriore colpo in un territorio già profondamente provato c'è bisogno di cambiare strategia c'è bisogno di riorganizzare di ripartire da interventi concreti e tangibili che da subito siano fonte di respiro ridare fiducia ai cittadini intervenire con aiuti ad operatori economici alle famiglie potenziare i servizi tutelare la scuola e arginare il fenomeno della dispersione scolastica che potrebbe in questa fase acquirsi ancora di più con il danno sociale e culturale che questo comporta coinvolgere in progetti importanti gli operatori turistici aiutandoli a resistere per essere pronti appena si potrà tornare alla normalità se non faremo questo rischiamo davvero al rientro da questo bruttissimo sogno di non trovare più nessuno nonostante la paura nonostante le tante difficoltà forse attraverso l'immissione di fondi importanti da un momento di crisi profonda si può arrivare ad aprire ad un possibile sviluppo delle nostre aree tanti sono stati gli aiuti economici e tanti ancora sembra stiano per essere messi in campo per esempio notizie di questi giorni è proprio quello che vede risorse statali arrivare in Calabria per ben 10 milioni di euro distanti al sostegno della rete dei servizi e scuole per l'infanzia fondi da utilizzare per consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi dei bambini tra 0 a 6 anni garantendo il funzionamento delle strutture pubbliche e private i bambini hanno diritto di vivere la loro infanzia in strutture specializzate e con personale educativo che possa trasmettere loro le basi giuste a questo poi si aggiunge che da sempre la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è un problema forte nei nostri paesi che oggi sta rappresentando un dramma per i genitori che lavorano la notizia di questi importanti fondi a disposizione potrebbe permettere finalmente degli investimenti seri su questo tema vorrei lanciare pertanto un invito a tutti i sindici delle aree interne della provincia di Catanzaro di mettere in campo tutte le iniziative al fine di intercettare questi fondi magari anche attraverso un progetto in sinergia in modo da essere più incisivi e determinanti forse è arrivato il momento di pensare ad iniziative comuni che possono fornire i servizi ad un bacino ampio che guarda in un'ottica di unità territoriale mi auguro che da questa negatività nascono delle opportunità per ripensare ad un futuro che veda l'intero territorio delle aree interne al centro di un progetto serio di rilancio e di ripopolamento sospesa consigliera comunale di Reggio Calabria Angela Marcianò la prefettura di Reggio Calabria ha accertato la sussistenza della causa di sospensione dettata dalla legge Severino nei confronti del consigliere comunale Angela Marcianò che nella qualità di candidata a sindaco ha ottenuto il seggio in consiglio comunale nei confronti di Angela Marcianò infatti ex assessore nella prima giunta del sindaco Falcomatà l'8 luglio 2019 è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado quindi ancora non definitiva nel troncone abbreviato del processo Miramare il GUP ha condannato Marcianò pena sospesa a un anno di reclusione per falso e abuso d'ufficio nel troncone ordinario dello stesso processo sono imputati il sindaco Giuseppe Falcomatà e parecchi assessori della sua prima giunta l'accusa anche per loro è di abuso d'ufficio e falso in atti pubblici per la delibera del 2015 che di fatto affidava l'albergo Miramare di proprietà del comune a un imprenditore legato al primo cittadino da un rapporto di amicizia che gli aveva concesso gratuitamente la sede della segreteria politica in occasione della campagna elettorale con cui Falcomatà divenne sindaco nel 2014 e ricevuta la comunicazione della prefettura il consiglio che proprio stamani doveva celebrare la seduta di insediamento è stato posticipato di mezz'ora regionali torna in pista censore o sarà Tassone bis il consigliere regionale assicura decideremo insieme il consigliere regionale del partito democratico Luigi Tassone è intervenuto ieri ha detto tra noi il programma in onda ogni giovedì dalle 17 alle 19 condotto da Daniela Maiolo con la partecipazione del direttore del vizarro Sergio Pelaglia e la regia di Bruno Iozzo Tassone ha commentato gli ultimi numeri della pandemia in Calabria ringraziando il personale sanitario e non rinunciando incalzando sull'argomento ad osservare come in Calabria siamo stati fortunati ma ad oggi mancano medici e il personale in forza è stato costretto a gestire doppi e tripli turni i posti di terapia intensiva sono diventati 154 rispetto ai 148 di prima ha aggiunto dunque direi che la regione Calabria non ha fatto grandi passi in avanti sul ritorno al voto e le finestre possibili per il rinnovo degli organi elettivi della regione Tassone ha dichiarato che come gruppo PD sarebbero pronti al ritorno al voto ma in questo periodo un'interlocuzione col governo è fondamentale e sulle possibilità di una sua ricandidatura ha aggiunto come noto sono molto legato a Bruno Censore sia da un punto di vista politico che umano dunque valuteremo insieme come gruppo e ci confronteremo su questa possibilità sul Totonomi per il candidato alla presidenza del centro-sinistra Tassone è stato poi chiaro proponendo un taglionetto rispetto al recente passato si è aperta una discussione a livello nazionale anche rispetto ai presupposti di aprire ai 5 Stelle al movimento di Carlo Tanzi e alle forze sane della politica calabrese attualmente mi sento di dire che si debba tornare al primato della politica perché anche se Pippo Callipo è persona per bene e grande imprenditore non ha dimostrato forza politica abbandonando un'intera coalizione l'asse si è poi spostato a livello locale Tassone ha dunque commentato la sconfitta alle ultime amministrative del movimento Uniti per Serra di cui fa parte siamo tutti responsabili della sconfitta anche se liberamente non ha stravinto certo abbiamo fatto un'analisi e detto chiaramente che all'opposizione saremo vigili per quanto riguarda i nuovi amministratori posso dire che vedo già alcuni limiti nelle interlocuzioni a livello regionale e anche per la gestione dell'emergenza rifiuti ma è troppo presto per giudicare e dunque per il momento auguro buon lavoro per Telegionio Anna Maria Colabraro Terremoto nell'Udc Fedele se ne va e polemica con Talarico In due anni abbiamo resuscitato un morto l'Udc non esisteva più ma insieme al lavoro certosino fatto con tanti amici che hanno dato il loro prezioso apporto abbiamo contribuito alla rinascita del partito afferma Fedele che aggiunge nelle ultime elezioni regionali ci eravamo riusciti eleggendo due consiglieri e ottenendo un assessore dopo queste elezioni però abbiamo più volte manifestato al segretario nazionale Gesa il malessere presente che arriva da più parti della Calabria abbiamo richiesto maggiore attenzione nei riguardi di chi ha lavorato senza sosta alla rinascita dell'Udc purtroppo non siamo stati ascoltati eppure al leader nazionale non potevano sfuggire i risultati raggiunti dell'Unione di Centro nelle altre regioni d'Italia dove il partito è quasi scomparso secondo Fedele il segretario nazionale non ha nemmeno preso in considerazione la serie di sconfitte che in questi ultimi cinque anni il coordinatore regionale ha registrato su tutto il territorio in successi però premiati a discapito di tutti coloro che hanno contribuito e portato risultati positivi al partito prendo atto che l'Udc in Calabria ruoti intorno ad una sola persona e questo non credo sia giusto quindi dopo una breve ma intensa avventura lascio l'Unione di Centro dove credo di aver dato il mio contributo facendo risorgere un partito quasi scomparso sul territorio ricordiamo che a Reggio Calabria nelle ultime amministrative abbiamo preso l'11% senza dimenticare il lavoro fatto anche nelle altre province calabresi senza nessuna polemica lascio l'Udc a chi saprà fare meglio di me e potrà dare al partito un altro futuro anche se ho qualche dubbio La replica di Talarico Piccata la replica di Franco Talarico che esprime dice davvero tutto il mio rammarico per le parole utilizzate da chi arrivato da poco nel nostro partito è stato accolto con grande disponibilità anche in virtù dell'antico rapporto di amicizie che ci lega e ha avuto a disposizione ruoli di primo piano appena due anni fa Luigi Fedele è stato candidato capolista alla Camera nel collegio plurinominale di Reggio Calabria quindi utile a una possibile elezione e ha poi ricoperto il ruolo di vice segretario regionale il segretario dell'Udc calabrese assessore regionale al bilancio evidenzia che insieme al segretario nazionale Lorenzo Cesa abbiamo voluto riorganizzare l'Udc in Calabria e Reggio dopo l'ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali quando il partito ha raggiunto l'11% in riva allo stretto alle ultime comunali non è stata neanche presentata la lista è stato dunque prosegue Talarico assolutamente necessario così come condiviso con Cesa e gli altri esponenti dell'Udc procedere ad un riassetto sul territorio della città metropolitana non si poteva lasciare proseguire una dinamica in cui il confronto politico è stato sostituito dalle ambizioni personali o da rivendicazioni territoriali in questi mesi saremo chiamati ad un grande sforzo e ad un grande senso di responsabilità in un momento storico così complicato e tenere viva l'eredità politica e morale che ci ha lasciato la governatrice Iole Santelli purtroppo scomparsa prematuramente ma che in pochi mesi ha dato la dimostrazione che per la nostra regione esiste una speranza e che il buon governo è possibile Talarico conclude l'Udc del resto negli ultimi vent'anni in Calabria ha avuto sempre risultati importantissimi e superiori a quelli avuti in altre regioni italiane spesso anche a due cifre forse per questo c'è fiducia in chi con grande coerenza e linearità anche nei momenti difficili l'ha rappresentata non mi pare dunque che nessuno abbia potuto resuscitare un partito che è sempre stato vivo e veggeto forse è vero il contrario l'Udc ha resuscitato qualcuno che era rimasto fuori dal palcoscenico politico per Tele Ionio Anna Maria Colabraro anche fedele lascia l'Udc Martino partito allo sbando gestione fallimentare l'ultimo grande politico dello scudo crociato calabrese abbandona l'Udc davvero l'ultimo dopodiché non ci resta più nessuno se non macerie il partito ormai è sparito distrutto annientato da chi ha voluto soltanto coltivare il proprio interesse così il sindaco di Capistrano Marco Martino che commenta le vicende del suo ex partito ne sono deluso sostiene sconcertato ero innamorato dell'Udc ancora oggi parlandone mi si riempiono gli occhi di felicità eppure ero io l'inadeguato sentendo le parole di Lorenzo Cesa e credere che nonostante parte di maggioranza con due consiglieri regionali ed un assessore sono stati in grado di dilapidare tutto il patrimonio di consenso costruito con il nostro sudore con i nostri sacrifici non certo detenuto da chi oggi occupa cariche prestigiosi senza nemmeno il proprio voto non avere rispetto nemmeno degli elettori prosegue di chi ha buttato il sangue per lunghissimi anni come si può essere così narcisisti gli ultimi anni dei vertici nazionali sono purtroppo da considerarsi inadeguati sotto ogni aspetto lo dimostrano i risultati lo dimostra la mancanza del nostro simbolo alle varie competizioni elettorali in tutte le regioni lo dimostrano i risultati fallimentari riscontrati ormai da tempo un partito ormai svenduto a coalizioni di maggior interesse solo per ricercare qualche posto utile nelle istituzioni che contano il grande dei Gasperi si sarà rivoltato nella tomba in quanto a te caro Gigi conclude riferendosi a Fedele sono convinto che da oggi insieme al resto del gruppo si possa lavorare per un serio progetto che possa finalmente vedere protagonisti gli elettori e non il solo al comando a Fedele a Fedele